Condanna tre anni con la condizionale per Savina Maggi, l'educatrice professionale riconosciuta colpevole di essersi fatta indebitamente consegnare somme di denaro da un ospite della struttura residenziale protetta per malati psichici dove lavorava. La donna, in passato assessore presidente della Proloco di Talamona, nell'agosto scorso era stata sottoposta agli arresti domiciliari con le accuse di peculato e circonvenzione di incapace. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'operatrice che si doveva prendere cura di un invalido affetto da problemi psichiatrici, in più occasioni tra il 2013 e il 2017, approfittando del suo ruolo, lo aveva accompagnato in banca ad effettuare prelievi di denaro, circa 30 mila euro spesi poi per proprie esigenze, a far scattare l'indagine la segnalazione alla procura da parte del giudice tutelare per ammanchi sospetti dal conto della vittima. Il tribunale, oltre alla condanna di tre anni, ha disposto nei confronti dell'imputata l'interdizione in perpetuo dei pubblici uffici e il pagamento di una provvisionale quale risarcimento danni di 20 mila euro alla vittima e di 10 mila euro ad ASST, azienda per la quale lavorava all'epoca dei fatti.